Bailando, amigos, adios, adios, e il silenzio all'occo, bailando, bailando, amigos, adios, adios, e il silenzio all'occo, bailando, bailando, buona domenica, benvenuti ad un nuovo video, sono tra un po' euforico, cioè sono più euforico del solito perché sono andato in edicola a cercare Barbie Magazine per vedere se trovavo Brooklyn. Perché è allegata anche lei, ma ho trovato solo Barbie e io Barbie già ce l'ho e quindi vabbè ho girato alcune edicole e girando, girando, ho trovato questo e sono molto, 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 molto felice, ma quanto è bello, bellissimo. Allora, c'erano anche Barbie e Nicky, ma io già le avevo, ma lui no, perché anche quando sono usciti questi qua della Megablocks, che non è quello che vi ho recensito tempo fa che è la nuova serie, questa qua è la serie precedente, e insomma Ken non si trovava e io lo volevo e quando l'ho visto... Ah, è mio! Ok. Allora, è bellissimo, infatti questo l'ho pagato 7,99 e c'è anche il DVD di Barbie, Mariposa e le sue amiche Farfalle. Ogni dollina ha allegato un DVD, quindi cercate in base a quello che volete. Io quando ho visto lui ho dato tipo un urlo, vabbè, lasciamo stare perché è bellissimo e lo volevo tantissimo. Allora, questo è il DVD, è chiuso, bellissimo pure il film e bla bla bla. Ok, mettiamolo qui e questa è la scatolina, allora, molto bella, sempre a forma di borsetta, Barbie Building Set Megablocks, 26 pezzi, si chiama I Love Ken, Jim Ken, Yo Amo Ken, I Love You Ken, e qua ci fa vedere tutti la serie. C'era Barbie questa qua ma io già ce la avevo e poi c'era Nicky da sola. Eccolo qua, bellissimo. Ora lo apro e lo vediamo perché è troppo fresco pure in miniatura. Allora, aperta la confezione troviamo questo bel libretto di istruzioni per montare tutto. Io ho già iniziato a montare ma secondo voi ci sarò riuscito? Chi lo sa, ma vi faccio vedere. Allora, questa è tutta la collezione, c'è anche questa che non ho preso perché io non saprei assolutamente montarla, infatti adesso vedrete. Eccola qua. Allora, questa dovrebbe essere la panchina. Allora, io non ho capito bene come mettere questo coso alzato perché mi casca, ecco vedete, però vabbè, comunque sono io. Mi dovevate meravigliare se fossi riuscito a montare la panchina, insomma, però io ora dico che sono una frana, non capisco un tubo. Ok, non me lo voglio negare, ma così cacchio non ci sta ferma, cioè cade, vabbè. Non mi interessa, io l'ho preso perché, perché, perché lo sapete perché. E quindi la panchina non è andata, ma comunque abbiamo lui. Guardate qua, anche se è piccolo è molto molto carino. È fatto proprio bene in viso, somiglia tantissimo proprio al Ken. Ken, devo dire che è fatto anche meglio di Barbie in questa versione qua. Bello. Può mettersi seduto, ma purtroppo Ken, mi dispiace, su quella panchina non ti siederai mai perché, come al solito, non sono riuscito a metterlo. Ha la sua basetta sotto e può mantenere un mazzetto di questi fiori in mano. Eccolo qua, così lo vedete meglio. Eh, guardate qui, molto carino. Poi arriva con questi accessori. Ci sono dei fiorellini. Possiamo mettere anche il papillon al posto della cravatta perché sono appunto removibili. Questa è la simil panchina, ma a me non mi riesce così. Ma perché ragazzi? Perché? Perché va bene, lasciamo stare. Questo è un altro accessorio. Poi è arrivato anche un foglio adesivi. Questo andrà su questo cuoricino. Insomma, un set carino. Soprattutto se siete bravi, ovviamente, sicuramente, non farete la mia fine. Vi potete divertire. Questa linea di Barbie è molto, molto carina. Ma, dico la verità, non ne prendo più. A meno che non trovo un adofiscono come lui, va bene. Allora, il video finisce qua perché è meglio. Vi do un bacione, vi auguro una buona e serena settimana. E niente, con questa freschezza, anche miniatura, bacioni a tutti.